Una proposta di legge strutturale a firma del gruppo regionale della Lega è un emendamento all'assestamento di bilancio prossimo ad approdare in aula avanzato da Fratelli d'Italia. Sono due le iniziative volte al sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei volontari della protezione civile, per il sostegno e il riconoscimento delle vittime del dovere. Lega e Fratelli d'Italia hanno incrociato gli intenti che separatamente stavano andando nella stessa direzione. Nel nostro emendamento, speriamo venga approvato, stanziamo 200.000 euro, anche con un contributo del 100% fino a 15.000 euro per progettualità, innanzitutto per ciò che riguarda la manutenzione, l'abbellimento di siti museali o siti storici, più altre iniziative, progetti di pubblica utilità, pubblicazioni e poi naturalmente per noi è centrale progetti all'interno delle scuole. La Lega ha voluto sostanzialmente estendere, aveva già fatto la legge sugli alpini nella scorsa legislatura, ora sostanzialmente facciamo una legge su tutte le associazioni combattentistiche e d'arma. In più aggiungiamo il riconoscimento che ci deve essere, che è giusto che ci sia per le vittime del dovere. Faccio un esempio, i familiari, i figli di chi cade o muore nell'esercizio del proprio dovere, i poliziotti della questura di Trieste, che prevediamo una serie di interventi a favore magari dei figli, con il collocamento nelle liste obbligatorie, titoli di preferenza per l'assunzione, per i concorsi nell'amministrazione regionale. Ci sono dei valori che crediamo sia molto importante in questo momento in un incontro diretto, trasmettere ai giovani non YouTube, non Facebook, non Internet. Un incontro diretto.